Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, è gratis anche il gruppo Telegram Link in descrizione e qui trovi l'Instagram di Neapolis 1926 Vieni a trovarmi Allora, verso Napoli-Juventus ragazzi Sto sentendo, sto leggendo, sto guardando cose incredibili Addirittura oggi è uscita la notizia di tutto sport Meret dovrebbe recuperare e dovrebbe andare c'è in panchina contro la Juventus Ospina dovrebbe rientrare a poche ore dal calcio di inizio e dovrebbe giocare titolare contro la Juventus Stiamo parlando di questa mattina alle 8 ragazzi Ore 15, è uscita le 15 la notizia Meret è stato visitato dal dottore del Napoli Prognosi di 40-45 giorni E' come quando io praticamente mi sono lussato la spalla Non si poteva operare E quindi devi aspettare Quanto tempo ho aspettato io? 40-45 giorni Ragazzi, è normale, è normale se c'è una frattura e tu non puoi operare quella frattura E devi rimanere a riposo Punto, basta Poi ci sarà tutta la riabilitazione di qua e di là E quindi Meret ce lo siamo giocati per un mese e mezzo Bello ampiamente un mese e mezzo Allora, poi ho letto Ospina, era uscito infortunato Poi nulla di grave, era solo la botta E quindi si deve giocare altre due partite con la Colombia Va bene Mettiamo caso che questo si infortuna nelle prossime due partite con la Colombia Può capitare, come è capitato a Meret contro il Genova Può capitare anche ad Ospina Ora, io il dubbio non ce l'ho Io il dubbio me lo levo subito Importa contro la Juventus Chi gioca? Marfella Qual è il problema se gioca Marfella ragazzi? Tanto questi della Juventus vengono a Napoli Comunque con il sangue agli occhi Cioè, che vi pensate? La Juventus viene a fare la sfilata Si scansano e ci fanno vincere? No, sarà una battaglia che tu hai Meret O Spina O Neuer O Donnarumma O Gennaro Izzo Questi comunque vengono a Napoli per fare il risultato Qual è il problema di far giocare Marfella? Che non ha mai fatto una partita fra i professionisti? Non ha mai giocato in Serie A, B e C Qual è il problema? È comunque un giocatore del Napoli e va sostenuto Cioè, io vedo cose allucinanti Cose allucinanti Uno che dice perché abbiamo dato via Contini Io non avrei dato via, l'ho già detto Però la rosa attuale è questa La rosa attuale è competente Che vi pensate? Che da qui a fine stagione non si può rompere un'altra volta Demme Non si può rompere Usimena Non si può rirompere Mertens Non si può rompere Insigne Non si potrà più rompere nessuno nel Napoli E ragazzi Sono tutti pronti ad intervenire Qualora si dovesse fare male un giocatore del Napoli Mortacci sua Un'altra volta lui è stamotte È già la terza volta che passa Quindi Marfella Se gioca a Marfella Va sostenuto Punto basta Qual è il problema? Perché giochiamo contro la Juventus Già detto Questi vengono a Napoli per fare il risultato Non per fare la spilata Sempre e comunque Forza Napoli Aspetta No, non voglio ancora chiudere il video Aspetta un attimo Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Qualora Meret Esculiamolo subito Meret Che non potrà nemmeno andare in panchina Qualora Ospina dovesse tornare E non dovesse dare i risultati adatti Perché non è possibile che questo dopo 48 ore Giochi una partita così importante Senza i postumi Del viaggio E dell'affaticamento muscolare Quindi fatemi sapere Siete contrari O a favore di far giocare Marfella Vi lascerò se riesco un sondaggio Va bene O in community O qui nel video Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Napoli 1926 Ciao a you